devi chiederti a te, fai te le domande ciao, prima tappa della Sky Race Cup a Temu Nicole Ducci Fabio Ambrogi oggi com'è andata la gara? bene dai non pensavo di arrivare così ma alla fine sono andata bene lo stesso anche se ho quasi inforcato però alla fine va bene così dai Fabio? Stanno tutto bene e poca neve niente da fare, ape Nicole dopo il successo del parallelo di Natale cosa ti è sembrato essere qui essere tornata tra noi della Sky Race? è sempre bello tornare qua alla fine ero anch'io così e adesso sono ancora così però è bello ritornarci e ritornare a gareggiare così è bello tu i tuoi obiettivi di quest'anno? come l'anno scorso cioè? ciao ciao ciao